La casa del grande fratello è stata scossa dall'uscita repentina di Beatrice Luzzi per motivi personali, come annunciato dai canali social del programma. La domanda che tutti si sono posti è stata prontamente risolta, un grave lutto ha colpito l'attrice, con la scomparsa del padre, l'architetto Paolo Luzzi. Il dolore per questa perdita ha invaso le pagine di Instagram, con messaggi di profondo cordoglio e sostegno alla concorrente da parte dello staff del programma e degli spettatori. Un momento di grande tristezza che ha spinto Beatrice ad allontanarsi temporaneamente già lo scorso 20 dicembre, quando il padre ha subito un delicato intervento chirurgico. Nonostante fosse in attesa di rientrare nella casa, nulla faceva presagire la tragica notizia. I coinquilini, mostrando sensibilità e affetto, hanno inviato messaggi di supporto, mentre Alfonso Signorini ha espresso delusione per la mancanza di empatia di alcuni concorrenti. Una situazione controversa si è creata all'interno della casa quando parte dei coinquilini ha ignorato il dolore di Beatrice, continuando festosamente, suscitando reazioni contrastanti all'interno della comunità. Nonostante sia stata oggetto di discussioni e disaccordi, Beatrice Luzzi è stata una presenza forte e rispettata all'interno del programma, mantenendo sempre un comportamento dignitoso e senza scendere mai nella volgarità. La sua forza e il suo carisma l'hanno resa non solo una figura osanata dal pubblico ma anche una candidata che si afferma come vincitrice morale, indipendentemente dal suo ritorno nella casa.